Attenzione! Ole gone, il palonetto, copre bellissimo parrocchiale. Sì, sono molto felice di rimanere a Monza dopo un anno bellissimo. L'anno prossimo, chissà, sarà una bella sorpresa e vediamo un pochino quando cominceremo. Sì, è molto stimolante, soprattutto la Champions League, che ho giocato quando ero veramente piccola, tipo 16 anni, 17 anni, non mi ricordo nemmeno che cosa ho fatto. E non vedo l'ora di mettermi in gioco e vedere come la squadra, ma anche personalmente, come posso reagire alla Champions, che è bellissima. Una qualità che secondo me non dovrà mai mancare è la fame di vincere, la voglia di vincere, individuale per ogni giocatrice, ma soprattutto di squadra. Ma voglio ringraziare le ragazze, lo staff della scorsa stagione e anche la società, ovviamente, perché è stata veramente una bella stagione piena di emozioni e soddisfazioni. Sono molto affezionata a tutti quanti e li volevo ringraziare di cuore.